gentili telespettatori buona giornata leggo sui giornali meloni e letta come sandra e raimondo strano gioco di coppia sul colle ma cosa ci sarebbe davvero dietro questo il rapporto tra i due a tratti a volte giorgia meloni ha fatto degli elogi a letta a volte l'ha criticato molto duramente la stessa cosa dall'altra parte certo hanno delle visioni dell'italia e del mondo realmente molto realmente molto diverse beh perché allora questo paragone con sandra mondaini e raimondo vianello indimenticabili no vi ricordate la sit comedy che c'era su canale 5 quante volte l'ho vista bene giorgia meloni si ritrova con enrico letta e si lascia scappare l'apprezzamento io ed enrico letta siamo un po' come sandra raimondo come sandra e raimondo della politica italiana e renzi risponde subito ma loro facevano più ridere facevano più ridere beh sì sandra e raimondo facevano ridere i politici spesso fanno ridere però per non piangere bene l'occasione è la presentazione del libro pedagogia e politica costruire comunità pensanti a cura di luciano violante pietrangelo buttafuoco e emiliana mannese e qui l'analogia con la coppia più litigiosa e amorosa dell'immaginario italiano quello di sandra e raimondo e sottende una potenziale alleanza tra due nemici amici che mai si sarebbe pensata un'alleanza quasi carsica la maggioranza allargata nella partita istituzionale del colle di fine gennaio si parlava della maggioranza allargata allargata proprio anche a giorgia meloni di fratelli d'italia dove letta dal palco di atreu diceva proponeva la riforma di un sistema elettorale ben lontano dal proporzionale che evita le coalizioni prima del voto e pre personale piace tanto al berlusca ma taglierebbe meloni fuori dei giochi per il governo la penalizzazione di chi cambia la casacca aveva trovato unito i due il famoso recall alla matriciana un patto per il bipolarismo che sfarini ogni deriva centrista la modifica della job act renziana tutte cose che i due pensano allo stesso modo e una matura e sobria democrazia dell'alternanza che poi è un termine di solito caro a chi viene issato sulla vetta dei sondaggi bene giorgia meloni dice siamo persone distanti che si confrontano questo è normale letta oggi segretario del primo partito e fratelli italia il secondo nel paese poi dipende dai sondaggi dice giorgia meloni sicuramente siamo i segretari dei due principali partiti italiani siamo due avversari convinti e spero leali giorgia meloni dice spero leali perché quello che abbiamo assistito quello a cui è un'altra parte politica del paese che vede l'altra non come degli avversari come giusto che sia ma come dei nemici da far fuori politicamente con qualsiasi arma giudiziaria qualsiasi cosa va bene per far fuori berlusconi salvini meloni ecco dove non si arriva convincendo le persone a votarli si arriva con altri metodi con gli apparati che sono delle strutture nascoste è per questo che giorgia meloni si augura speriamo di essere degli avversari leali spero leali dalla parte del centro destra non c'è mai una volontà di fare fuori politicamente gli avversari dal centro destra verso il centro sinistra non si guarda mai come dei nemici si guarda come degli avversari un po grotteschi un po così perché definire il pd di sinistra ce ne vuole dare una definizione al pd è difficile realmente che pa che tipo di partito è beh zingaretti nicola diceva che il pd era una scatola vuota formata solo da correnti che si muovevano solo per potere e poltrone spartizione di poltrone probabilmente questa è la definizione più corretta quella che dava zingaretti del suo stesso partito è la più corretta non ci sono dentro idee politiche ogni 20 giorni viene fuori letta il ddl zan poi gli passa passano altri 20 giorni il ddl zan e poi di nuovo si addormenta ecco questo me lo chiamate un partito pertanto giorgio meloni si augura questa lealtà di non essere vista come un nemico ma come un avversario enrico sorride si abbandona ad un cenno d'assenso quando giorgio meloni dice siamo due avversari convinti spero leali perché fino alla settimana precedente i due si erano abbastanza se le erano abbastanza dette non troppo amabilmente meloni anti parlava dei francesi di macron aveva detto a letta che era il casalino di macron il casa ma finché si dice il casalino di macron non non c'è niente di 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 così clamoroso l'importante che questo non si trasformi in odio e su twitter enrico lo aveva ironicamente fatto il verso della proposta ad un presidente patriota mettendo la fotografia di sandro pertini il patriota però fino a questo rimane comunque nel gioco delle cose ecco la coppia poi si era omaggiata reciprocamente sul palco melonissimo di atreio eletta dopo aver chiesto garanzie sui conti di fratelli d'italia col passato si era sbilanciato vorrei nella maggioranza per il quirinale anche fratelli d'italia e giorgia che l'aveva introdotto come un antesignano delle nostre feste strizzava l'occhiolino allo stesso modo in cui in un'altra festa poco più in là conte bettini ammiccavano insieme sul proporzionale pertanto giorgia ed enrico come sandra e raimondo bene beh comunque un simpatico simpatico comunque paragone e questo è anche per far capire giorgia meloni sta facendo capire all'avversario del principale partito che spesso vede in fratelli d'italia in giorgia meloni il nemico giorgia meloni sta cercando di far capire ad enrico letta di non passare il confine dell'avversario di non far diventare giorgia meloni il nemico da abbattere politicamente bene io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti